Il futuro della sanità offerta dall'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno è nella robotica. Ad un anno dall'avvio degli interventi con il robot Vinci e il giorno dopo l'annuncio di due interventi di chirurgia pediatrica robotica, l'ingegneria medica applicata alle sale operatorie consentirà anche al secondo più grande ospedale della campagna di offrire prestazioni innovative. Lo ha raccontato con un'emozione ed un orgoglio particolare nello sguardo il direttore generale dell'azienda ospedaliera Vincenzo D'Amato intervenendo ad un convegno sul tema. Fiore all'occhiello di un elenco lunghissimo di innovazioni in arrivo a Ruggi di Salerno, la prima pet-tac pubblica. Da settimana scorsa ci è stato consegnato il cobalto radioattivo e questo per il tumore della mammella della donna sarà un passo avanti enorme perché innanzitutto si potrà fare anche la radioterapia chirurgica, si evita l'intervento chirurgico ma se dobbiamo trattare la donna bastano solo tre sedute a fronte delle 15, 20, 25 sedute che si fa con la procedura tradizionale. Riusciremo a risparmiare i tessuti sani, i limitrofi, quindi il cuore, la cardiotossicità sarà evitata e quindi eviteremo l'infarto del mio cardio. Avremo un'azione importante sulle liste di attesa della radioterapia tradizionale perché saranno trattati appunto con questa nuova attrezzatura o comunque potremmo utilizzare la radioterapia con il gammapod con una sola irradiazione riuscendo a posticipare l'intervento chirurgico di 45-60 giorni. Insomma tutte cose veramente veramente importanti. Le dico l'ultima, noi siamo nei tempi, anche lì, a settembre, avremo la prima pet-tac pubblica della provincia di Salerno, una cosa che assolutamente mancava nella nostra azienda, all'interno delle nostre strutture, erano anni che se ne parlava all'interno del Ruggi, ebbene la stiamo realizzando in questi giorni mentre noi parliamo e per settembre sarà attiva. E si fa quasi fatica dopo l'elenco di novità raccontate dal direttore generale del Ruggi chiedergli di rispondere ai disagi di quella parte dell'utenza per lo più disabile che dovrà soffrire qualche problema legato al trasferimento dei servizi dall'ospedale d'Aprocida dove un cantiere lungo almeno tre anni trasformerà la struttura sanitaria di via Valerio Laspro in un polo regionale della riabilitazione. Un'attrezzatura veramente all'avanguardia che potrà essere utilizzata dai cittadini, sarà nella città di Salerno, ma per l'intera regione Campania, ma anche per il sud, perché il sud è enormemente deficitario. E intanto cosa succede alla riabilitazione? La riabilitazione si è trasferita all'interno del Ruggi, c'è stata una piccola riduzione dei posti letto in una struttura nuova, c'era un problema, mi segnalavano all'interno di una palestra perché avevano bisogno di vari spazi, ma proprio nella giornata di ieri, l'altro ieri ho incontrato il direttore della struttura, ho incontrato i suoi principali collaboratori, abbiamo condiviso altri locali per cui soddisfarremo anche questa ulteriore esigenza. La piscina resta praticamente? La piscina, quella piscina è utilizzata per attività di ricovero, quindi io avevo pensato anche andare all'esterno, però noi siamo una struttura ospedaliera, quindi non ambulatoriale, per cui quella piscina per essere come quella del Dabroci dovrebbe pensare all'interno del Ruggi e questo è praticamente impossibile. Stiamo pensando ad altro, adesso continuiamo a erogare le attività di ricovero di DH, le attività ambulatoriali all'interno del Ruggi, vediamo se ci viene qualche altra possibilità, la perseguiremo senz'altro perché i disabili della città di Salerno e non solo della città di Salerno non vanno assolutamente trascurati.